Buongiorno a tutte ragazze, altro styling di Kerastase, creme de la creme, una crema come dice il nome, fantastica, adatta a tutti quei tipi di capelli che hanno bisogno di controllo, quindi capelli crespi, ribelli, non implica nella piega, quindi possiamo fonarla come vogliamo. Applicata da capello lavato e tamponato, lunghezze e punte, controlla il volume, che comunque ci aiuterà a mantenere una testa un po' più ordinata e soprattutto ci aiuterà a far sì che la spazzola scorra bene nel nostro capello, quindi ci aiuterà proprio anche nella piega. È un prodotto anche umidità, quindi comunque anche qua possiamo stare tranquilli nelle nostre giornate un po' uggiose, questo ci aiuterà un pochino a preservare il crespo dall'umidità e soprattutto a controllare anche il nostro volume. Altra cosa possiamo usarlo in totale tranquillità nelle nostre pieghe, perché comunque ha un agente termattivo, ovvero nero che comunque ci preserva dal calore, quindi possiamo utilizzarla tranquillamente anche quando lavoriamo il nostro capello con piastre o ferri, quindi ottima per qualsiasi tipo di capello e per qualsiasi tipo di lunghezza. Ragazze, creme della creme, grazie mille!